Siamo con Beppe Cardone, ex Piacenza, ex Milan, una carriera importante. Che cosa ricordi del periodo che hai vissuto con la maglia bianco-rossa? Beh, è stato un bel periodo. Diciamo che quella che è stata la mia carriera, ricordo tutte le tappe, c'è sempre stato qualcosa di positivo. Piacenza mi sono trovato molto bene, è stato un po' il mio rilancio dopo aver scalato e essere arrivato in auto, un periodo un po' così. Poi Piacenza mi ha rilanciato e sono riuscito a togliermi altre soddisfazioni importanti poi negli anni a seguire. Tu che hai vissuto anche realtà molto più importanti, abbiamo detto il Milan, che cosa ti ha lasciato Piacenza a livello di calciatore? Sicuramente una società seria nella quale si poteva lavorare bene, in quel periodo era anche tutto sommato ambiziosa. Ci siamo tolti nel nostro piccolo delle soddisfazioni, magari anche soffrendo, ma a volte quando si soffre le soddisfazioni sono ancora più grosse. Quindi lo ricordo con piacere il fatto di essere qua, anche testimonianza del fatto che comunque ho ancora persone con le quali mi sono trovato bene. Senti, che effetto ti ha fatto dall'esterno quello che è successo alla società? È un effetto un po' strano, perché l'anno e mezzo che sono stato qua io si stava veramente molto bene, non c'erano problemi particolari. Poi purtroppo probabilmente si sono create delle situazioni spiacevoli, magari per la dirigenza e anche la crisi di tutto il mondo. Quindi nel mercato ne ha risentito anche il calcio e le società che magari facevano un pochino più fatica hanno pagato. Mi dispiace molto, è ovvio che il mio augurio è quello che il Piacenza possa ritornare al più presto a una categoria che gli compete. Senti, questa sera siamo a questa scena dell'associazione di William Bottigelli, dedicata a William Bottigelli. Vuoi parlarci di questo tuo impegno per questa associazione? Guarda, ho un impegno per un amico che è Jimmy, lo faccio con piacere perché so gli scopi benefici che ha questa associazione e so quanta passione ci mette Jimmy e tutta la sua famiglia, quindi per me è un onore essere qua. Ti ringrazio, il tuo rapporto con i vecchi tifosi, li sentite ancora? No, con i tifosi qua a Piacenza in particolare no, sono sempre stato comunque un giocatore che bene o male si è fatto voler bene perché sono uno di quelli che insomma non ha mai tirato indietro la gamba e quando poteva dare qualcosa, anche fosse poco, l'ha sempre dato. Quindi a onore del vero posso dire che non mi è stato mai rimproverato sicuramente l'impegno. Poi dopo gli errori capitano nella vita di tutti i giorni, figuriamoci a giocare a calcio. Però ho un buon ricordo anche della mia esperienza con la tifoseria qua a Piacenza, quindi anche a loro auguro di ritornare al più presto in stadi più importanti.